Virtus Lanciano alla finestra, almeno nella prima parte di mercato. La società frentana conta infatti soprattutto sui recuperi di Cerri e Paghera, che potrebbero essere i veri rinforzi del mercato di gennaio. Il primo infortunatosi il 28 ottobre scorso e poi operato il 5 novembre dovrebbe tornare disponibile per fine gennaio. Paghera, dopo la rottura del braccio a Terni, fra pochi giorni toglierà il gesso. Il direttore sportivo Luca Leone resta vigile, ma se proprio dovesse arrivare un rinforzo, questo sarebbe per la difesa. La società continua a ripetere che Federico Amenta resterà in rosso-nero, ma è chiaro che l'ex celanese chiederà di giocare di più. Chi potrebbe salutare Nunzella, che piace al Catanzaro. Se il giovane difensore partirà, allora si creerebbe un problema visto che non ci sarebbe un sostituto sull'out sinistro di Capitan Mammarella. Oltre a Nunzella ci potrebbero essere altre due cessioni, quella del portiere Branescu, che piace in Lega Pro, e quella del giovane di vita, che non è mai sceso in campo fino ad oggi. Resterà sicuramente Pinato, che può ricoprire più ruoli nello scacchiere di Roberto D'Aversa. Fino al 2 febbraio, giorno di chiusura del mercato, tutto però potrà accadere. La squadra rossonera tornerà a lavorare la prossima settimana in vista della gara d'esordio del 2015 al Biondi il 17 gennaio contro un Catania in piena crisi.